Ma care compagni e cari compagni, il 19esimo congresso della CGL, dentro cui si iscrive il 13esimo congresso della CGL Basilicata che stiamo celebrando anche quest'oggi, si svolge in una temperie politica, sociale, economica, geopolitica del tutto nuova. Il paradigma nel quale l'Occidente aveva inaugurato la stagione successiva al crollo del muro di Berlino e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, quello della fine della storia che presuppone l'affermata e protratta continuità nel tempo, della superiorità del modello liberale, unito alla dottrina cieca nell'espansione globale del modello capitalistico e valoriale occidentale, si è rivelato fallace. Finita è la pace, non la storia. Alla dottrina MAD, Mutual Assured Destruction, e cioè il cosiddetto equilibrio del terrore, quello fondato sulla deterrenza nucleare, che presiedeva il rapporto fra i due grandi blocchi contrapposti del mondo, ha fatto seguito sul piano geopolitico ciò che Caracciolo, Lucio Caracciolo, in un suo ultimo bel libro, pregno di significati, di valenze, ha definito Caoslandia per sintetizzare l'attuale lunga catena di conflitti che va dall'Africa al Medio Oriente fino a Latino America. In tutto questo la guerra di aggressione in Ucraina, un fatto globale non periferico e al tempo stesso un acceleratore e un detonatore. Riporta, dopo 78 anni, la guerra in quella Europa che germinò due guerre mondiali in quel novecento che fatichiamo a lasciarci alle spalle. E pone alcuni interrogativi di fondo, anche a noi, sui concetti di pace, di libertà, di resistenza alle aggressioni armate, di coesistenza pacifica fra i popoli, di un nuovo ordine europeo e mondiale di sicurezza. Invochiamo la pace, una pace giusta, diciamo, sapendo tuttavia che è un processo di pace di per sé un dialogo, una negoziazione. Ma tutto questo è difficile che possa avvenire finché non si mettono a tacere le armi, senza che si interrompa l'aspirare del dolore e della vendetta. Ecco perché a un anno dall'inizio della guerra di aggressione una tregua condivisa, imposta dalla comunità internazionale per fermare la corsa verso il baratro, sono oggi l'indispensabile prerequisito della pace. L'esito del voto del 25 settembre segna la sconfitta della sinistra nel nostro Paese. Non si tratta soltanto di alleanze mancate, tantomeno anche noi non bisogna rifugiarsi in esemplificazioni rassicuranti, come hanno fatto alcuni autorevoli esponenti del centro-sinistra, ieri intervenuti in questa nostra assise. Duole dirlo, la sinistra oggi sa cosa è stata nel passato, non sa cosa deve essere nel futuro. La destra invece sa bene quali sono le pulsioni su cui far leva. Non si è capito soprattutto che in questi lunghi anni veniva avanti una gigantesca riorganizzazione dell'intera struttura sociale nel nostro Paese, governata dalle sole logiche di mercato, che ha lasciato sul campo una grande questione sociale e acuito i divari tra nord e sud del Paese. Sono aumentate non solo le differenze tra ricchi e poveri, non solo il reddito disponibile del cosiddetto ceto medio o di una parte significativa del cosiddetto ceto medio si è compresso. Non solo sono aumentate le sacche di povertà assoluta, enormemente dilatata soprattutto nel corso del triennio pandemico, ma ciò che rileva di più sotto il processo di accumulazione sociale, che più rileva per noi, per la nostra funzione sindacale è che l'esercito dei working poor e cioè i lavoratori poveri tende sempre più ad ingrossare le sue file. Nel mezzogiorno tutto si amplifica, una condizione che rischia di ossificarsi ulteriormente dentro le maglie istituzionali di un regionalismo differenziato che rappresenterebbe una cesura irreparabile tra nord e sud del Paese. Le si è detto ieri un connubio ingestuoso, un nostro compagno della politica, un connubio incestuoso fra le diverse anime di questa neodestra per modificare in profondità l'assetto costituzionale materiale e formale della Costituzione nel nostro Paese, sotto il profilo della forma di Stato, il presidenzialismo e sotto il profilo della forma di governo, il presidenzialismo e della forma di Stato per quanto riguarda il cosiddetto regionalismo differenziato. Non si può pensare che tutto ciò non potevano pensare, non potevano pensare che tutto ciò non avrebbe generato un carico drammatico di disagio, un disagio che fa sì che la paura prevalga sulla speranza, domina una sensazione di precarietà che mina la fiducia nel futuro. E cos'è la sinistra senza una idea di futuro? E senza la capacità di ritessere il filo spezzato di una speranza nel futuro delle donne e degli uomini, delle lavoratrici e delle lavoratori nel nostro Paese. Quel che serve in modo ineludibile è uno sforzo collettivo in cui chi ha di più deve dare di più, in cui la riduzione delle diseguaglianze sia un motore di crescita, in cui tutti accettino di disturbarsi con gli occhi delle giovani generazioni. Uno sforzo paragonabile a quelli più ardui che abbiamo superato nella nostra storia repubblicana. Chi chiamerà questo sforzo? Con quale credibilità? Con quale coerenza? Con quale sincerità? Con quale capacità di tenere unito il Paese? Sono queste le domande di fondo che ci portano a dire che non possiamo cadere nel limbo di un nuovo agnosticismo. Noi, la CGL, che pur gelosi la nostra autonomia ed anzi nell'esercizio della nostra autonomia piena, non possiamo rimanere indifferenti alla ricerca e dalla elaborazione di un nuovo umanesimo politico e alla ricostruzione di una prospettiva progressista nel nostro Paese, in grado di rimettersi in sintonia, di riconnettersi con le ragioni del lavoro e restituire speranza non solo ai figli ma anche ai padri. Per quanto riguarda la filea che io mi onoro di rappresentare, nel mutato quadro diventa prioritario, diventa strategico salvaguardare e agire le conquiste degli ultimi anni per difendere e spostare in avanti la capacità di tutela individuale e collettiva delle persone che rappresentiamo. Parlo del DURC con congruità, mi riferisco alla parità di trattamento fra lavoratori in appalto e i lavoratori in subappalto, mi riferisco alle clausole sociali che diciamo subordinano l'erogazione dei bonus, dei sussidi, degli incentivi al sistema privato delle imprese. Ma noi dobbiamo aprire anche in questa nostra regione una discussione più coraggiosa anche in questa nostra regione su come immaginare di utilizzare ed estendere un'esperienza rilevante, importante del sindacato degli edili e cioè la mutualità bilaterale come momento di gestione contrattuale, di garanzia di legalità, di gestione di momenti diciamo del mercato del lavoro, di gestione della formazione, di governo della formazione. Noi dobbiamo aprire diciamo una discussione su questo tipo soprattutto laddove nei settori in cui il lavoro è polvere, è frantumato, è discontinuo, è precario. Voglio chiudere veramente una parola, una parola. Ultima, la CGL, questa nostra CGL, in questa nostra regione, è chiamato il sindacato confederale, siamo chiamati a sfide inedite. Questa nostra regione, dai piccoli numeri come è stato detto, dalle grandi fragilità, ma io credo anche dalle grandi potenzialità, somma in sé tutti i nodi, tutte le contraddizioni delle tre grandi transizioni in atto, dalla transizione tecnologica alla transizione energetica ed ecologica alla transizione demografica e sociale. Quindi abbiamo davanti grandi sfide, dilemmi di carattere inedito. Per questo noi abbiamo bisogno di una CGL all'altezza, forte, coesa, di una CGL al contempo, sempre più organizzazione e sempre più comunità. Per preservare e rafforzare questa condizione, il gruppo dirigente, che come è stato detto, anche nella relazione di Angelo, è sempre transeunte, deve continuare a fare ciò che ha contraddistinto l'esercizio e lo svolgimento dei mandati da parte di Angelo Summa, e cioè l'esercizio e la pratica dell'etica della responsabilità e del principio di lealtà tra di noi, come garanzia al tempo stesso di pluralismo e di unità di questa nostra grande CGL.